questo programma è offerto da per rottamare e cancellare dal pra il tuo veicolo non devi pagare nulla se chiami vimicar in più in taschi la supervalutazione fino 500 euro del suo valore di mercato e ha il ritiro gratuito a domicilio vimicar ora ti è ancora più vicino nella nuova sede in via nazionale torrette di mercogliano numero 54 vendita di ricambi usati e di sbrigo immediato pratiche rottamazione non c'è da farsi furbo ma da rimanere svegli autodemolizione vimicar ospedaletto dal pinolo e torrette di mercogliano whatsapp 349 11 46 608 autodemolizione vimicar.it arrestati a cervinarono a 25 anni il suo padre tra il 2018 e il 2019 avrebbero ripetutamente abusato sessualmente delle figlie di lei di 1 e 5 anni il nono era stato scarcerato da riesano le indagini sul cruento omicidio di pannarano si attende l'autopsia prima tv il parere del criminologo leggero l'intervista integrale alle 15 e 20 spari tra la folla in pieno giorno a fuori grotta si ripete la scena da far west quattro uomini in sella due scooter fanno fuoco a vicenda il rischio di nuove vittime innocenti sono stati confiscati beni per oltre 100 milioni di euro i due imprenditori campani vicini alla criminalità organizzata 161 immobili auto conti correnti e quante societarie blocco della viabilità sulla fondo valle isclero lo annuncia il comitato curiamo la vita per scongiurare la chiusura dell'ospedale di sant'agata dei goti la protesta sale di livello si chiama malsecco causa la morte dei limoneti col diretti ai sindaci non c'è cura subito prevenzione deroghe per bruciature dal sindaco di cetara solo alla regione il cero di pesto meveli a fara da cornice alle grandi stelle della musica italiana protagonista da rassegna musica e parole nove serate tra le meravigliose archeologiche dei due parchi un giorno si avvicina al napoli mentre tutto fatto per leonardo spinazzola che firma un biennale ad avellino da domani i playoff del campionato libico a porte chiuse ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di prima tv arrestati a cervinara una venticinquenne e suo padre tra il 2018 e il 2019 avrebbe ripetutamente abusato sessualmente delle due figlie di lei di uno e cinque anni il nonno era stato scarcerato nello scorso mese di aprile dal tribunale del riesano i carabinieri del comando provinciale di avellino hanno tratto in arresto un 58enne la figlia 25enne entrambi di cervinara con la gravissima accusa di violenza sessuale aggravata e continuata su minori gli orrendi reati commessi tra il 2018 e il 2019 nel luglio del 2020 portarono all'arresto dell'uomo che lo scorso aprile il tribunale del riesame di napoli aveva scarcerato l'orribile storia venne fuori quattro anni fa dopo la denuncia della coordinatrice della casa famiglia in cui erano state collocate due sorelline a causa di una difficile situazione familiare la bambina più grande aveva raccontato anche attraverso alcuni disegni la triste vicenda di abusi e ripetute violenze sessuali che era costretta a subire il nonno delle due bambine la più grande di soli cinque anni la più piccola addirittura di uno venne accusato di aver abusato sessualmente e ripetutamente delle due piccole la cui madre e figlia dell'orco era al corrente di tutto ciò che accadeva tra le mura della sua abitazione gli sviluppi investigativi svolte secondo specifici protocolli previsti nei casi di abusi sessuali in danno di giovanissime vittime fortificati dall'analisi psicologica e dall'esame clinico specialistico sulle due piccole vittime accertarono l'orribile storia fatta di ripetuti abusi sessuali all'interno dell'appartamento di una palazzina di cervinara nonno orco e mamma complice un vero e proprio orrore raccontato anche dalla stampa nazionale stamane l'arresto di padre e figlia che dopo gli accertamenti di rito sono stati trasferiti in carcere omicidio di pannarano si attende l'autopsia prima di voi la parere del criminologo leggero l'intervista in onda le 15 e 20 benito miarelli è recluso nel carcere di benevento la salma del fratello annibale e all'obitorio dell'ospedale san pio si attende l'affidamento dell'incarico per l'autopsia l'esame sarà decisivo per ricostruire la dinamica della tragedia l'ascia con cui è stata mozzata la testa della vittima è stata subito rinvenuta dai carabinieri l'omicida all'arrivo dei militari si è mostrato collaborativo cosa sia passato nella sua testa in quei minuti è presto per affermarlo disturbi della personalità e litigi pregressi emergono dalle testimonianze raccolte ma sulla scena del crimine il sangue presente soltanto nel letto sembrerebbe escludere una lite culminata in tragedia almeno non nell'immediato i vicini infatti non hanno sentito nulla miarelli avrebbe atteso che il fratello si addormentasse per poi agire cosa ciò può significare lo abbiamo chiesto ad un criminologo questo denota una lucidità una addirittura una premeditazione l'attendere il fatto che il fratello si addormentasse e che quindi naturalmente non ci fossero difese per agevolare il suo proposito intento omicidiale e ovviamente sarà un ostacolo al riconoscimento della incapacità di intendere di volere anche se vi può essere una premeditazione in una scansione temporale e poi magari qualcosa che cambia però chiaramente è qualcosa che denota milita fortemente a favore di una premeditazione del gesto feroce e agghiacciante sono stati confiscati beni per una somma di oltre 100 milioni di euro a due imprenditori campani vicini alla criminalità organizzata 161 gli immobili sotto sequestro auto conti correnti e quote societari la guardia di finanza di bologna insieme al servizio centrale criminalità organizzate con il supporto dei comandi provinciali di napoli caserta benevento e cosenza ha eseguito una confisca di circa 100 milioni di euro emessa dalla corte d'appello di napoli un patrimonio di società dei settori dell'edilizia immobiliare i beni sono risultati nella disponibilità di due imprenditori di origine campana antimo morlando e emanuele di spirito condannati in via definitiva bario titolo per concorso esterno in associazione di tipo camurristico e trasferimento fraudolento di valori anche aggravato dal metodo mafioso ritenuti vicini al clan pucca e perfetto la confisca e l'epilogo di indagini della dda di napoli dopo un monitoraggio su investimenti immobiliari sospetti fatti in emilia romagna nelle province di bologna e ravenna da soggetti apparentemente privi di qualsiasi capacità reddituale stato documentato infatti un complesso di società formalmente intestate a soggetti compiacenti ma di fatto gestite dai due imprenditori strumentalmente impiegate per operazioni speculative immobiliari al fine tra l'altro di agevolare gli investimenti di alcuni clan e riempiego di provviste illecite in maniera da consentire alle stesse organizzazioni criminali di trarre ingenti guadagni i clan agendo all'ombra di imprese apparentemente pulite reinvestivano così nel circuito legale i proventi delle attività immobiliari sono stati assicurati allo stato 161 beni mobili tra fabbricati e terreni nelle province di napoli caserta benevento e cosenza 25 autoveicoli 7 rapporti bancari attivi e 16 quote di partecipazione societarie per un valore di circa 100 milioni di euro pari tra la folla in pieno centro a fuori grotta si ripete la scena da far west quattro uomini in sella due scooter si sono inseguiti e fatto fuoco a vicenda hanno fatto perdere le loro tracce momenti di paura fuori grotta nel tardo pomeriggio di ieri secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine due scooter con in sella tre o quattro persone si sarebbero inseguiti sparandosi addosso tra passanti e auto in transito è accaduto intorno alle 19 in via leopardi strada con molti negozi che a quell'ora è particolarmente frequentata da persone che entrano ed escono dalla vicina stazione della cumana poco dopo gli spari sul posto è intervenuta una volante della polizia che ha intercettato e inseguito i due scooter che però sono riusciti a fuggire svoltando tra via bixio e via consalvo la sparatoria tra l'altro è avvenuta non lontano dai giardinetti di piazza italia dove una mamma di 50 anni luisa mangiapia il 4 aprile scorso fu ferita da un proiettile vagante mentre era con la figlia undicenne alle giustrine i giardinetti di piazza italia sono stati recentemente riqualificati a metà mese dovrebbe riaprire anche la stazione della linea 6 un episodio quello di ieri che mette in allarme i cittadini con lo scontro ancora acceso tra bande criminali del territorio su quanto avvenuto indaga la scuola mobile gli investigatori hanno recuperato alcuni bossoli all'altezza del civico 80 di via leopardi blocco della viabilità sulla fondo valle isclero lo annuncia il comitato curiamo la vita per scongiurare la chiusura dell'ospedale di sant'agata dei goti la protesta sale di livello se non lo fanno le istituzioni lo faranno i cittadini e quello che sta succedendo in provincia di benevento per l'ospedale santa maria dei liguori di sant'agata dei goti la chiusura del pronto soccorso a partire dalle 18 ha sollevato un vero e proprio bespaio cittadini allarmati perché si sentono poco tutelati dalle istituzioni sanitarie ed abbandonati proprio nei momenti più critici della giornata cioè la notte quando un malore improvviso diventa più difficile da gestire manifestazioni di protesta sorgono spontanee così come la formazione di comitati e il 2 luglio scorso si è riunito e insediato il comitato curiamo la vita nato per impedire lo smantellamento dell'ospedale a cui sono stati sottratti anche infermieri per destinarli al rummo tra le iniziative che intraprenderà quasi certamente il comitato sarà il blocco della viabilità sulla fondo valle isclero nel tratto tra lo svincolo di dugenta e quello dell'ospedale in modo da deviare il traffico e farlo transitare davanti all'ospedale bellissima la cattedrale nel deserto prima però chiederanno l'incontro con il presidente della regione campagna vincenzo de luca c'è da dire che il governatore è stato chiaro ribadendo che la palla passa al governo centrale disponibilità al dialogo e agli incontri come quello previsto anche con il sindaco mastella nei prossimi giorni disponibilità a farsi portavoce del territorio ma finanziamenti per contratti dei camici bianchi spettano al ministero e proprio qualche giorno fa è stato approvato il piano triennale per l'asso di benevento per l'assunzione entro la fine dell'anno di 88 unità con la clausola di esaurire le graduatorie prima di bandire nuovi concorsi e intanto maria morgante manager dell'ospedale san pio del santo alfonso dei liguori mercoledì ha ribadito che si sta facendo il possibile per riaprire il pronto soccorso chiedono l'accelerazione delle procedure assunzionali e per questo il comitato degli idonei al concorso per categorie protette bandito nell'aprile 2022 dall'azienda ospedaliera universitaria federico secondo ha organizzato un sit-in di protesta fuori gli uffici del consiglio regionale della campagna chiedono di accelerare le procedure di assunzione degli idonei al concorso per categorie protette bandito nell'aprile del 2022 dall'azienda ospedaliera universitaria federico secondo interessati sono da un anno in graduatori in attesa di essere chiamati ma non ricevono alcun segnale in questa direzione la graduatoria scade nel 2025 e temono di essere tagliati definitivamente fuori visto che non si proceda di metterli in ruolo ascoltiamo luca puglisi comitato idonei concorso chiediamo semplicemente che vengano applicate le normative nazionali e che vengano assunti la percentuale di lavoratori delle categorie protette all'interno degli enti nel solo comparto sanitario della campagna sottolinea il comitato ci sono ad oggi almeno 200 posizioni scoperte con quote importanti soprattutto all'azienda ospedaliera dei colli all'istituto pascale di napoli e all'astro napoli 3 sud ascoltiamo claudio apisce comitato idoni concorso teniamo presente che per quanto riguarda il nostro concorso ci sono ancora circa 150 persone che devono essere assunte e che comunque deve essere rispettato il 7 per cento delle quote disabili negli enti si chiama malsecco causa ingiallimento e morte dei limoneti col diretti ai sindaci non c'è cura subito la prevenzione ed eroghe per la bruciatura di materiale infetto secco a serio rischio i limoneti igp della costiera malfitana un contagiosissimo fungo il plenodomus tracheifilius sta attaccando migliaia di piante la malattia chiamata malsecco si manifesta con l'ingiallimento delle foglie il disseccamento dei rami e nei casi più gravi la morte delle stesse piante la situazione che abbiamo trovato è effettivamente preoccupante il fungo malsecco è abbastanza diffuso in tutti i limoneti si a valle che a monte sono presenti molte piante che mostrano i segni del fungo dai rametti apicali mentre in molti casi l'infezione fungine a parte anche dalle radici ha detto il direttore della col diretti di salerno enzo tropiano che ha svolto una serie di sopralluoghi con il consorzio di tutela del limone costadamalfi gp e con il professore antonio de cristofaro dell'università del molise nelle zone interessate col diretti stima che siano affette dal malsecco circa 50.000 piante che sono da reimpiantare non essendoci cura prosegue tropiano dovranno essere adottate una serie di misure per combattere la diffusione di questo fungo che crea seri problemi ai nostri agricoltori occorre avviare immediatamente il monitoraggio con il fitosanitario facendo anche tesoro delle esperienze dei territori che da tempo lo combattono come la sicilia la prassi da adottare per arginare la diffusione del malsecco deve tenere conto delle criticità e dei vingoli in essere della costiera malfitana c'è bisogno per provare a fermare l'avanzata del fungo killer per i limoneti di alcune deroghe da parte dei comuni si deve partire dalla formazione chi ha il problema deve saper combatterlo conclude il direttore della col diretti salerno occorre definire delle prassi di coltivazione di potatura e di reimpianto che limitano la diffusione del fungo anche i sindaci e la forestale devono fare la loro parte consentendo le deroghe necessarie per l'abbruciamento in loco del materiale infetto secco e il sindaco di cetara della monica chiede alla regione campania di attivare una misura specifica per la limonicoltura immaginando un contributo per l'espianto e il reimpianto dei limoneti contagiati i sindaci dei comuni della costiera malfitana si schierano con i produttori di limoni e aprono a deroghe per bruciare il secco infetto in particolari ore serali o al primo mattino intanto chiederanno anche aiuto alla regione campania che ha allertato l'ufficio fitosanitario è convocato d'urgenza un tavolo tecnico tramite l'assessore all'agricoltura Nicola Caputo con la richiesta di ristori perché è stato più danneggiato dal fungo killer. Sono dei numeri drammatici purtroppo io perciò come presidente della conferenza dei sindaci insieme ai miei colleghi che ho sentito immediatamente ho deciso di convocare questa riunione il 23 luglio alle ore 18 a Maiori convocando un po' tutti gli attori, gli attori principali innanzitutto sono gli agricoltori, le associazioni di categorie, i consorsi, l'OPI, i consorsi di tutela, la regione campania, noi amministratori, noi sindaci perché solo con un gioco di squadra possiamo cercare tra virgolette di difenderci da questo maledetto fungo perché ad oggi purtroppo non esiste ancora una medicina e una cura che sradica immediatamente questo problema. Ve ne siete accorti un po' tardi voi oppure è stato improvviso l'arrivo di questo fungo? Vi dico la verità, io personalmente sono stato coinvolto da pochi giorni con la lettera del presidente del consorzio Angelo Amato e poi mi sono visto ieri con il presidente di Salerno di Col di Retti, Vincenzo Tropiano. Normalmente quando mi ha parlato di questa drammaticità del fenomeno pensavo che stavamo a questi livelli, ho attivato immediatamente tutto quello che volevo fare, smuovendo un poco tutto perché veramente il problema è serio, molto serio e bisogna affrontarlo con forza, con energia perché veramente se no diventa drammatico la situazione. Si rischia nell'arco di 6-7 anni veramente che perdiamo se non tutto ma gran parte della produzione dei limoni in costiera ammaltitana. Andiamo da Avellino, Benedetta, la stelle di Sullo, l'omaggio delle istituzioni al ministro Irpino Rotondi, la 16, un'opera che cambia il mezzogiorno sul padre della patria. È stata benedetta dalla bate di Monteveggine, padre Riccardo Luca Guariglia, la stelle in onore di Fiorentino Sullo, fresca di restyling installata in un luogo più visibile per chi transita sulle 16, in un'aiuola nei pressi del casello autostradale circondata da Cipressi, a favore anche dello sguardo dei tanti pellegrini che si recano al santuario di Monteveggine, come sottolineato da Monsignor Guariglia, che ha raccolto idealmente il testimone dell'abate dell'epoca, Anselmo Trampaglia, che 6 gennaio 1963 benedisse la prima pietra dei lavori per la costruzione dell'autostrada Napoli-Bari, nel tronco Nola Avellino, un collegamento strategico tra Napoli e l'Irpinia, frutto dell'intuizione del ministro da Sporti e presidente dell'ANAS, Fiorentino Sullo. Due giorni fa è stato il 24esimo anniversario della scompassa dello statista irpino deceduto all'età di 79 anni, il 3 luglio del 2000. La nuova collocazione della targa in uno spicchio di verde sulla 16 è stata ressa possibile grazie all'impegno della Fondazione Sullo, la società autostrade d'Italia e del SIAP, il sindacato appartenente in Polizia, diretto dal segretario generale provinciale di Avellino Pietro Russo. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi rappresentanti istituzionali. L'iniziativa ha preceduto il convegno tenutosi presso la bazia di Loreto sul tema nuovi progetti sulla sicurezza stradale in A16. Un'opera quella fortemente evoluta dal ministro Irpino che ha cambiato il mezzogiorno, sottolinea Rotondi. Abbiamo avuto un'altra Italia dopo questa realizzazione. Vorrei ricordare che oggi si parla di grandi opere e se ne varla per decenni senza che decollino. L'autostrada del sole in otto anni è passata dalla prima pietra alla corsia di sorpasso. La significativa autorevole partecipazione alla cerimonia, un attestato di rispetto e ammirazione per Fiorentino Sullo. È una comunità che si inchina unitariamente al padre dello sviluppo della provincia, ma non dimentichiamolo anche al segretario generale dell'Assemblea Costituente. In tanti casi si usano frasi a sproposito. Nel caso di Sullo possiamo dire che è stato un padre della patria. Nel Tg Sport di oggi il calcio mercato del Napoli. Buongiorno si avvicina ma l'Inter prova l'azione di disturbo, mentre è tutto fatto per Leonardo Spinazzola che firma un biennale con gli azzurri. Ad Avellino allo stadio Partenio Lombardi da domani i play-off del campionato libico a porte chiuse, mentre il Benevento piazza il colpo Lamesta in attacco dopo Manconi. Ci fermiamo per una breve pausa. Tra poco restate con noi. Ben ritrovati per la seconda parte del telegiornale. Partono domani 6 luglio i saldi in Campania. Secondo le prime stime solo il 50% dei consumatori deciderà di spendere in questo weekend in attesa di cali. Ulteriori dei prezzi che fiosologicamente si registrano a saldi inoltrati. La corsa agli affari dunque non sarà per tutti. In settimana molti esercizi commerciali hanno già esposto saldi al 30%. I saldi partiranno anche online per la platea di consumatori che preferisce gli store sulle piattaforme web. Gli sconti termineranno a metà settembre. Un grande striscione per Mario Paciolla. Il cooperante napoletano delle Nazioni Unite ha trovato morto 4 anni fa in Colombia e apparso sui balconi della sede CGL di Via Toledo a Napoli per chiedere di continuare a cercare la verità e fare giustizia per la sua morte. Uno striscione dedicato a Mario Paciolla, il cooperante napoletano delle Nazioni Unite trovato morto 4 anni fa in Colombia dove si trovava come osservatore per la verifica del corretto svolgimento degli accordi di pace tra il governo e le forze armate rivoluzionarie del paese sudamericano. È stato esposto nella sede della CGL in Via Toledo a Napoli. L'apertura dello striscione è avvenuta nel corso di una iniziativa alla quale hanno preso parte i genitori di Mario Paciolla, Pino e Anna. Per una ovvia verità, cioè noi la sappiamo, l'abbiamo in questi 4 anni la famiglia ha cercato in tutte le maniere di far conoscere questa storia. Ci sono delle prove indiziarie importanti ma ci sono anche delle prove scientifiche ma soprattutto noi sappiamo che Mario non si è ucciso ma sicuramente è stato ucciso. Quindi non è possibile che questi nostri ragazzi ma anche le persone adulte che si muovono in questo mondo così liquido debbano partire e non tornare mai più. Questo non deve accadere più a nessuno. Abbiamo deciso di sostenere questa importante battaglia perché parla anche di diritti negati. La vicenda non può finire nel dimenticatoio Nicola Ricci, segretario generale CGL Napoli e Campania e Lara Ghiglione, segretaria confederale CGL. Noi abbiamo deciso di sposare questa grande battaglia per la verità perché è una difesa dei diritti e perché la vicenda di Mario Paciolla non può finire nel dimenticatoio con quei connotati che ci lasciano molti dubbi. È per noi il modo per essere accanto alle tante ragazze e tanti ragazzi che lasciano appunto il nostro paese per svolgere queste attività che spesso vengono dimenticati, per i quali non ci sono risposte nemmeno dal punto di vista delle tutele personali e lavorative. Quindi è un contesto, un luogo dove è giusto che la CGL stia per scoprire la verità e dare voce anche all'impegno di tante ragazze e di tanti ragazzi. Dal 26 luglio al 24 agosto il cielo di Pestum e Velia farà da cornice alle grandi stelle della musica italiana la protagonista è della rassegna Musica e Parole. Nuove serate tra le meraviglie archeologiche di due parchi dove arte, storia e cultura si fondono per dare vita a una serie di aperture serali straordinarie. Dal 26 luglio al 24 agosto i parchi archeologici di Pestum e Velia faranno da cornice alle grandi stelle della musica italiana, protagoniste della rassegna Musica e Parole. Nuove serate imperdibili dove arte, storia e cultura si fondono per dar vita a una serie di aperture serali straordinarie. Si parte da Pestum il 26 luglio con il concerto di Anna Oxa dal titolo Voce Sorgente. Il 9 agosto sarà la volta di Danilo Rea e Peppe Servillo con Napoli Jazz. Il 16 agosto Nicola Piovani salirà sul palco con noti a margine. E infine il 23 agosto l'orchestra Ghislieri di Pavia chiuderà la rassegna di Pestum con Dei ed Eroi, gli splendori dell'opera barocca tra Napoli e l'Europa. A Velia invece la rassegna si aprirà il 27 luglio con il concerto di Noemi, Non ho bisogno di te. Il 4 agosto sarà la volta di Paolo Fresu e Rita Marco Tulli, seguiti il 13 agosto da Fabrizio Bosso con il progetto We Wonder e un omaggio a Sivi Wonder. La voce di Karima il 17 agosto con Baccarac Forever e il 24 agosto Peter Sincotti chiuderà la rassegna. Siamo leti di annunciare il ritorno della rassegna Musica e Parole, un appuntamento estivo atteso e importante per Pestum e Velia, attraverso cui l'archeologia si apre alla musica contemporanea e sinfonica e con esse si carica di energia e significati inediti, afferma Tiziana D'Angelo, direttore dei parchi archeologici di Pestum e Velia. Le performance di artisti eccezionalmente talentuosi e versatili donano nuova vita alla storia millenaria dei nostri siti. Questi eventi, resi possibili dal piano di valorizzazione del Ministero della Cultura, ci consentono di raggiungere un basso e diversificato pubblico e di rafforzare i legami con le nostre comunità, sia locali che internazionali. Dopo un periodo di lontananza, il cantatore Irpino Berlino, 84, torna con altre 100 canzoni d'amore, un sound estivo preludio dell'album in uscita dopo l'estate. E' venuto a trovarci stamattina a Berlino 84, buongiorno Fabio, ben ritrovato. Ciao Leo, buongiorno. E' uscita da poco altre 100 canzoni d'amore. Di cosa parla questo pezzo? Immagino si capisce dal titolo. No, non si capisce. Era ironico il titolo, capito? Quindi parliamo di tutt'altro. No, vabbè, tu come Benzami conosci da 4-5 anni musicalmente, i pezzi mi parlano sempre di quello, cioè storie tristi. Però questo pezzo credo che abbia un po' un sound più estivo, un po' retro però più estivo, quindi diciamo è meno triste del solito. Meno triste del solito, anche il video, possiamo dire così, ancora una volta appartenenza che riesci a far trapelare dalle immagini dei tuoi videoclip. Sì, infatti quest'anno è stata un po', diciamo, ci siamo fatti un po' di risate su questa cosa, perché il mio editore che ho conosciuto a Casa Sanremo quest'anno è di Salerno, quindi si è portato il videomaker di Salerno e ha detto, ah beh, vieni a Salerno, ho detto no, no, si gira a Bellino. E poi tenevo questo desiderio di mettere il Duomo nel video, anche perché diciamo è un simbolo importante della città, quindi appunto per rimarcare di più l'appartenenza al territorio. E a proposito di sound estivo, le prossime date? Allora, ci sono immagino di... Sì, sì, ci sta, allora, quella imminente, il 6 luglio, sempre a corso Vittorio Emanuele. Proprio ieri sera sono stato contattato da un po' di comitati per programmare un po' agosto e la prima metà di settembre. Ci saranno almeno 7-8 date da qua a settembre. 7-8 date che io prendo un po' come 7-8 tappe di avvicinamento al disco, ci siamo? Sì, il disco è pronto, cioè è proprio tutto pronto, sono pronti i video, è pronto tutto il materiale. Diciamo che io lo volevo cacciare a marzo, quindi è pronto da marzo. Poi a febbraio ho conosciuto l'editore e quindi con lui abbiamo pianificato, diciamo, un'operazione diversa pure di marketing. ha detto stai fermo da un bel po', ho detto lanciamo prima un singolo, facciamolo prima un po' sfogare e poi lanciamo tutto l'album. Giustamente mi trovo d'accordo col suo pensiero. E da parte mia è tutto, vi lascio allo sport, grazie per essere stati con noi, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.